Ciao a tutti, sono Delli e adesso farò la reaction di Penomeco L.I.E. prodotto da Zico Mi pare che mi era piaciuta parecchio l'ultima canzone di Penomeco Lui è troppo bellino Oddio lei è particolarissima Oh, un salvit Oddio la sua voce E lui, madonna Ma non ho fatto il buono Ma lei è asiatica Perché sembra più occidentale Ho forse un po' Sì Adoro il lip piercing E' bellissimo Devo contenermi Extra bella Oddio che figata gli orecchini a ferma di chiave Ma oddio, aspetta un attimo Forse è lo stesso maglione Comunque adoro la camisa quella che ho Ecco Mi sa quante altre Non mi sembra una zola Oh Oh No scusate ma le parti col maiale Ok Indominate che inizierà a stannare il fenomeno in modo serio Chi era? Chi era quello dietro di lui? Non l'ho visto Questa scena mi faccia tanto spiegare E' stra bello Adesso è sincero? Non pensavo cantassi così bene Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio A me è bellissima questa ragione Non so le canzoni più pochino Stra bella giuro Giuro è bellissima Madonna mi è piaciuta stra tanto Pino Mico è una nuova fan giuro Mi piace veramente tanto Cioè tipo tutto mi piace Perché sia la musica che lui No vabbè sia la parte cantata che appunto il rap E poi lui è proprio Bello Quindi niente in caso scrivete nei commenti cosa pensate voi del video E ci vediamo alla prossima reaction Ciao ciao